Ok ragazzoli, ripartiamo da... sono tornato a casa, ripartiamo da qua perché il momento è molto importante ovvero facciamoci il nostro bel picconcino di diamante andiamo qui, non ho sticchettini cavolo, non ho nemmeno più legno dobbiamo fare un attimo di rifornimento di legno ragazzi allora, facciamoci il nostro bel picconcino in diamante oh yes, andiamo qui dopo di che recuperiamo le carote che dovremmo avere qui perfetto, perché non ho... a parte questo cibo non ho nient'altro ci facciamo... qui lo sto cucinando tutto, perfetto ci facciamo un bel secchiello d'acqua così, un bel secchiello d'acqua, ci facciamo un bel secchiello posiamo questa redstone che al momento non ci serve mettiamo qui posiamo... allora, sistemo un attimo qua la situazione e ci vediamo quando sono giù nella grotta dei primi episodi a recuperare un po' di ossidiana raga, brutti incontri, brutti incontri si fanno nelle caverne nelle caverne si fanno brutti incontri a due a due, i gemelli, i gemelli, i gemelli no, 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 no ecco, l'altro si prende di invidia, giustamente no, no perché questa cattiveria? non lo capisco perché questa cattiveria? va io mangio ah ah, io mangio se non è solo ricordarsi dove era la lava ok, abbiamo trovato la lava facciamo così piccone e ragazzi, iniziamo a recuperare lo sediano ragazzi, sono a 10 pezzi di ossidiana che per fare il portale mi bastano però ne vediamo un altro o qualche altro perché comunque, per esempio, per il tavolo degli incantamenti ci serve l'ossidiana dice ok, non è una priorità perché per ora può aspettare però io intanto me la porto che male non fa ok ragazzi, 16 pezzi di ossidiana penso che possono bastare di conseguenza, ritorniamo su e ci vediamo dopo porca miseria ragazzi è notte, oddio mamma mia una volta che becco giorno quando esco dalle grotte l'altra volta pure allora, spada in mano prepariamoci al peggio dobbiamo andare a dormire subito, subito, subito come sempre il cactus ragazzi così abbiamo anche le piante di cactus entra dentro perfetto e dormi ok abbiamo l'ossidiana ora la domanda principale sul quale non ho neanche riflettuto e dove facciamo il nostro bel portale dove lo facciamo dove lo facciamo e se lo facessimo qua sotto raga non mi convince non mi convince dove lo possiamo fare cosa ci fa col zombie c'è un zombie che si sta facendo i bagni potremmo farlo là sopra e che per arrivare là sopra dobbiamo creare tutta una scala e non è proprio divertentissimo di là ci abbiamo fatto la miniera quindi direi di no potremmo farlo qua sotto dai ci penso un attimino e vediamo dopo dove farlo allora ragazzi dopo un'attenta decisione per quanto volete portare il nether ero indeciso se farlo tipo lì sopra magari facendo tutta una scalinata particolare che saliva di qua se farlo da questa parte magari qua dentro facendo una cosa più particolare oppure se farlo qui in mezzo a questi alberi e quindi farlo magari che si intravedeva da questa parte di qua però alla fine ho deciso una cosa ho seguito uno dei consigli che mi avete dato nei commenti ovvero che mi è stato detto di fare tipo tante strutture simili alla casa tipo palafitte qua nel mare di conseguenza ho deciso che il portale del nether lo faremo qui direte ma che cavolata dici si lo facciamo qua in mezzo al mare lo faremo tipo una specie di scogliera che appunto esce dal mare e il portale in mezzo che si potrà raggiungere ovviamente solo tramite barca che poi faremo magari un porticciolo qui piccolino per poter raggiungere il portale molto carino ora come prima cosa facciamo solamente la base in pietra dov'iché costruiamo il portale dov'iché costruiamo il portale e e poi una volta entrati nel portale recupereremo tutti i vari blocchi del nether e andremo a completare la struttura quindi in questo oggi pomeriggio noi intanto facciamo la base e creiamo il portale dov'iché entriamo al portale e vediamo dove spawniamo dov'iché io la struttura tutta bellina del portale me la faccio off camera e nel prossimo video la vedrete completata perfetto allora la pietra ce l'abbiamo mettiamo tutta la pietra che abbiamo la mettiamo qua e ovviamente per fare il portale la mi serve un blocco di partenza quindi mi inizio a fare questa struttura e ci vediamo dopo guardate che mi è venuto a trovare ragazzi no è sparito lo vedete là sotto è sparito niente non mi vuole più fare compagnie allora io direi che a questa distanza potrebbe già andare bene quindi creiamo la base quindi 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 diciamo che partiamo qui secondo me siamo ancora un po' vicini quindi diciamo manteniamoci un altro poco direi che qui va bene allora dobbiamo fare 5 blocchi di qua iniziamo la costruzione ragazzi ragazzi eccolo qui l'amichetto di prima un bel droned il primo droned della nostra serie chi mi ha droppato qualcosa di interessante no solamente un pezzo di carne e basta uffa se beccavo già il tridente ora era qualcosa di a parte che non ce l'avevo in mano quindi era difficile riuscivo a beccarlo comunque continuiamo la costruzione ok ragazzoli questa è la base dove spunterà il nostro portale per verla così è abbastanza brutta io direi allora costruiamo il nostro portale che deve venire allora qui quindi dovrebbe essere allora intanto recuperiamo l'ossidiana no prima facciamo un attimo una prova con i blocchi di terra perché poi nel romperino l'ossidiana è una gran rottura di scatole allora qui siamo al centro quindi dobbiamo arrivare qui dovrebbe essere questo di qua perfetto quindi nella solità deve essere 1 2 2 e 3 ok perfetto va bene ce l'abbiamo quindi ragazzi sto tornando a casa perché sta facendo notte e ci manca l'accendino quindi dormiamo facciamo l'accendino il portale l'ho costruito e così vediamo guardate che da qua si vede spettacolo spettacolo allora dovremmo avere la selce perfetto ce la manchettiamo la selce mettiamo un blocco ok abbiamo il nostro acciarino perfetto andiamo a dormire e vediamo se il portale entra cioè se il portale entra vediamo se il portale funziona signorami mangiamo una patatozza prima ok si scende giù dai è carino potevo mettere la barca e lo aggiungiamo a questa ora tutto questo recuperiamo questa carne marcia che vediamo se il nostro portale funziona abbiamo qua dei blocchi che galleggiano che andremo a recuperare con calma attenzione momento importante signori abbiamo il portale entriamo entriamo ragazzi spada in mano ed entriamo per forza cos'è? è spuntato un quadrato? ah no quello che succede succede raga si va nell'altro mondo si va nel mondo nell'inferno ragazzi dai se becco se becco una fortezza come ho bloccato come ho beccato un villaggio all'inizio serie sarebbe spettacolare sarebbe spettacolare aiuto 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 raga questo è culo questo è culo questo si chiama culo di quelli proprio potenti signori miei una fortezza siamo spawnati sotto una fortezza signori quando si dice il culo il culo io non ho mai uso tanto culo in minecraft signori miei direi che meglio di così si muore aspettate vediamo un attimino comunque se la situazione è tranquilla se ci sono strani gust e cose varie no non c'è nulla là ci sono dei pigmen e ragazzi c'è un culo pauroso spettacolo spettacolo ragazzi allora io direi di completare qui di chiudere qui questo episodio ora recupererò questi blocchi del nether e completerò farò in maniera un po' più tranquilla tutta la struttura per come ce l'ho in mente io e il prossimo video lo vedrete a struttura a struttura sana e mi darete un vostro giudizio quindi per questo episodio è tutto ragazzi ci vediamo a un prossimo video bella ragazzi